Assolutamente, signori e signori, è lui, Bob Marley! La regina della moda, Donatella Versace! Signori, la piccola bombina guai, Pippi Garzerunghe! Signori e signori, da Canale 5, Platinette! Direttamente da Napoli, il cantante neopelodico, Vino D'Angelo! Dalle Alte Montagne, Aidi! Signori, da un onore e rispetto, Gabriele Caco! La moda, Donatella Versace! Signori, Maria De Filippi! Signori, è lui, l'affascinante Pierino! Signori, signori, dopo una tournée con noi, al CTO, a Cotugno di Napoli, a Cotugno di Napoli, a Cacchi! Trenino, Trenino!